Buonasera a tutti e ben ritrovati. Parleremo in questo momento di un mondo che affascina molte persone, i minerali. Per minerali intendiamo i cristalli, le pietre preziose e le pietre in generale. Le vibrazioni minerali sono vibrazioni prodotte da questi elementi. Parleremo prevalentemente di pietre e cristalli, in quanto le pietre preziose non le utilizziamo nell'ambito della formazione del neocoach perché sarebbero estremamente costose. In ogni caso avrebbero una grande efficacia, però ci rimettiamo all'efficienza straordinaria comunque di pietre e di cristalli. Queste pietre e questi cristalli noi le abbiamo selezionati in base al lavoro e alle emozioni che noi andremo a trattare con questi minerali. Entrano appunto in risonanza con le vibrazioni dei chakra. I chakra sono i centri di energia principali, che sono i sette chakra, probabilmente li conoscete, e hanno i cristalli e le pietre hanno una primaria corrispondenza in base alla forma e in base anche alla sostanza chimica di cui sono formati e anche al colore e una corrispondenza appunto con i chakra. Ma questa è un po' la base che viene insegnata, la base della cristalloterapia cosiddetta. In realtà quando uno è padrone del campo e della conoscenza di queste pietre e cristalli, li utilizza in maniera molto più ampia, quindi non necessariamente collegandoli ai chakra. Noi li utilizziamo praticamente collegandoli prevalentemente alle emozioni, quindi per andare a riequilibrare i chakra e anche le emozioni collegate ai chakra. In realtà quindi armonizziamo tutti i tre piani dell'essere, perché lavorano, anche se lavorano prevalentemente sull'aspetto diciamo aurico e anche prettamente energetico, in realtà di riflesso lavorano comunque su tutti i tre piani dell'essere. Dipende anche dal tipo di cristallo, dipende dal tipo di pietra che viene utilizzata, perché alcuni lavorano prevalentemente sull'aspetto corporeo, fisico, diciamo denso, e altri, per esempio, se utilizziamo delle pietre, lavorano prevalentemente sull'aspetto della materia, tant'è che sono più rigide, più dense, più pesanti. Pensiamo a un diasporo, pensiamo a un'agata, pensiamo a queste cose qua, magari a un'ematite o altri cristalli, che sono comunque molto concentrati e anche densi di colore, mentre più saliamo e più il colore, per esempio, sono chiare rispetto ai chakra dello spirito. Quindi comunque vengono definiti più cristalli, mentre le pietre spesso si utilizzano prevalentemente per l'aspetto materiale. Possono essere utilizzati sia sull'uomo che sull'ambiente, sull'uomo come vi ho appena spiegato, e sull'ambiente magari per cambiare, purificare, modificare l'energia dell'ambiente, quando per esempio l'energia è alterata. Molti utilizzano, ad esempio, il quarzo rosa e lo tengono vicino ai computer o comunque per modificare l'inquinamento elettromagnetico dell'ambiente. I cristalli quindi sono, assorbono, assorbono e lavorano, come si dice in gergo, e spesso, a volte può anche capitare che il cristallo, per esempio, si spezzi, si rompa o comunque si scurisca, si modifichi. Perché? Perché in realtà fa un suo lavoro importante di trasformazione e di assorbimento. Quindi noi, come si studia questa materia? Rientra relativamente alla parte di operating. Sono 16 ore tra teoria e pratica e si fa appunto nel secondo anno di studi. Quindi si impara come si utilizzano i cristalli in base alla forma, al colore e alla qualità del cristallo. Questo perché, come ho appena spiegato, ogni cristallo ha delle sue caratteristiche che utilizziamo anche in base a quello che noi andiamo a voler riarmonizzare per portare in equilibrio le varie emozioni. Poi insegniamo anche l'uso e l'utilizzo istintivo del cristallo, perché spesso e volentieri questo aspetto ci aiuta a, come dire, a scegliere in qualche maniera, istintivamente quel cristallo di cui abbiamo bisogno. E questo affina anche l'ascolto e la sensibilità della persona. E poi ci sono chiaramente le integrazioni con le altre materie e le esercitazioni. Ecco, ok, non ho pigiato abbastanza. E il neocoach come le utilizza? Che cosa vuole ottenere? Quindi l'utilizzo principale, uno degli utilizzi principali, è proprio la stimolazione di aspetti inespressi, perché spesso noi abbiamo delle grandissime potenzialità che, oppure delle cose che non abbiamo un po' nascosto, diciamo così, anche a volte per spirito di sopravvivenza, dolori, traumi o cose che non vogliamo vedere di noi stessi. E quindi sono lì che sono magari da far emergere in maniera tale da poterli trattare. Oppure inespressi in senso positivo, nel senso che abbiamo delle potenzialità che non abbiamo messo ancora a frutto e che magari vogliamo stimolare in maniera tale che diventino attive, insomma, che diventino efficaci e ci possano aiutare a realizzare meglio anche la nostra vita quotidiana e la nostra vita. Come ho anticipato prima, appunto, aiuta ad armonizzare le emozioni e anche a portare energeticamente l'equilibrio nei chakra. Quindi noi se andiamo a allineare l'energia dei chakra con un trattamento, magari con i cristalli, noi andiamo a stimolare, a riequilibrare le emozioni e quindi andiamo a fare tutto un lavoro sinergico. Con quali materie si integra? Quindi con il reiki, che vi ho spiegato ieri, perché il reiki, parlando appunto di energia, parlando di lavoro sui chakra, eccetera, eccetera, si vanno tranquillamente all'integrare. E poi con l'ipnosi psicoimmaginativa, come aveva appena spiegato Sara, e con l'intelligenza emotiva, perché sono proprio, anche questi, lavorano sulle emozioni, sulla rimozione di alcuni traumi, eccetera. E poi con la psicologia della Roma.